Con Fesercenti Veneto si dice contrario al numero chiuso dei visitatori a Venezia e si tratta di un altro colpo contro il progetto di Brugnaro, secondo il consigliere regionale Montanariello del Partito Democratico. Come afferma il consigliere, come forza politica abbiamo sempre detto che il numero chiuso non può essere la soluzione e che invece bisogna puntare sulla gestione dei flussi e sulla riorganizzazione dell'offerta turistica. Grazie per la visione!